Sinergia 2019 è l'evento dedicato all'immobiliare dei servizi e sono in compagnia di Mattia Collantuoni, responsabile commerciale di Wikicasa. Ciao Mattia e ti chiedo subito un commento a caldo su questo pomeriggio. Ciao Gerardo, intanto ti ringrazio per l'invito e sono contentissimo di essere qua e di rappresentare Wikicasa per la prima volta sinergie. Sono rimasto piacevolmente sorpreso sia per la qualità degli interventi quindi agli altri relatori sia soprattutto per la quantità e per la qualità anche della sala perché oggi erano presenti in sala penso le migliori agenzie d'Italia, gran parte di quelle, quindi veramente complimenti perché non è semplice portare gli agenti immobiliari in sala lo sappiamo, sei riuscito complimenti. Grazie, allora durante il tuo speech hai trattato un tema interessante che riguarda proprio i portali immobiliari che si stanno via via avvicinando alla transazione, si riduce da un'esperienza a Madrid dal Property Portal Watch che ti ha regalato un sacco di informazioni. Qual è la situazione in 30 secondi? Beh è innegabile che questo è un trend che sta riguardo al settore immobiliare in particolare sui mercati esteri ma che sta prendendo piede anche in Italia ormai diversi nuovi servizi, nuovi progetti stanno facendo real estate dagli buyer, agenzie immobiliari online. Non crediamo che ora come ora sia un reale pericolo per agenzie immobiliari italiane che lavorano con qualità e quindi quelle realtà strutturate ma è innegabile che questi nuovi player avranno un ruolo importante in futuro e avranno una fetta di mercato quindi questo è innegabile. Wikicasa, cosa può raccontare, cosa può dare agli agenti immobiliari? Questo è il momento dello spot, è magico. Assolutamente sì, allora come ho detto prima gli agenti immobiliari hanno una sola arma per difendersi, anzi due, quindi la prima è formarsi, continuare a dare valore aggiunto ai clienti, la seconda di dotarsi di strumenti che siano tecnologicamente avanzati ma che soprattutto che valorizzino la figura del professionista. Noi in Wikicasa siamo sicuri che il processo di compravendita vedrà ancora protagonista l'agente immobiliare e quindi il nostro obiettivo è dare un valore aggiunto agli agenti immobiliari mettendoli come protagonisti nella transazione, quindi questo è il nostro obiettivo. Grazie mille, allora ci vediamo per l'edizione 2020. Saremo presenti, una promessa. A presto. Ciao. Ciao.